Salve a tutti ragazzi, benvenuti al terzo episodio, nonché terzo capitolo di Magica, insieme a Quit che è qui con noi Ciao ragazzi, come state? Il gioco purtroppo l'ultima volta è crashato, quindi abbiamo ripreso da qui Comunque, capitolo 3 è The Nightmare Core City of Rile Che è tipo la città di Cthulhu o di cose del genere Esatto Sperando che questa volta carichi Va letto così ragazzi, eh Esatto, altrimenti Ok Ce la farà? Sì, è già andato oltre Ok, sì Schermo nero, ok Perfetto Ci siamo Allora, prima di tutto, fermo Non partire con Parti con l'aste No, ok Non partire con l'aste Di cattiveria, facciamo Allora, qui, occhio che Ti stavo per lanciare Ahia C'è un grosso rischio di cadere qui Sì Sai quante cadute farò io? Io già non so dove sto andando Sì, con un grosso quantitativo di tentacoli Dai, stai zitto Vlad, su Grazie Vlad Allora Tipo Penso Che quella cosa sia da colpire con Con qualcosa Fuoco? Non ho idea Però non c'è altro Oh, c'è No, ho capito Ho capito, ho capito No, io non ho capito Io sì Aspetta Ecco, vedi Oh oh Capito come si fa, eh Ti si sta salendo Secondo me ero Ah, verde Va bene Nice Non so Era quello Era l'arcano Non è che So che di solito funzionano con gli opposti Magico Oh oh Che fai? What? Le rocce stanno sicuramente No, gli faccio Oh, gli faccio qualcosa Gli faccio Rocce, rocce Le tue misere rocce Non fanno nulla La mia aria Io ho un sacco D'aria in pancia Non ti preoccupare Allora Farò cadere tutti Adesso ho trovato un modo Per far cadere tutti Senza il minimo sforzo Sono una persona contenta Checkpoint Vita? Sì What? What? Ok È tipo una roba di corsa Presumo Dobbiamo arrivare dall'altra parte Prima che questa cosa si spenga Quindi vita Ok Si, lo vedo sfasato Fuck Quindi arcano No Niente Quello sei tu Vita Oh, aia Hai sparato giù No, non ti ho sparato Sto stato Ah no Gli Revive In realtà sarebbe meglio farle da solo Sto qua Ecco Ah, ti revivo qua Vita? Eh Ok No, sono tornato indietro Che pacco Vita È questo È questo qua È tornato da me Vuoi tornare su questo? Perché non ci sto capendo più un cazzo? Mio Dio Oh my god Ah Ora presumo che la cosa sia stata inutile Perché Si Aspetta che lo butto giù Oggi provare Ah Aspetta lo scudo di roccia Non posso buttarti giù Aspetta Ora Che sì Aia Ecco adesso Secondo me Tramite una combinazione di specchi Dovremmo riuscire A raggiungere l'altro cosa Vedi che lì c'è uno specchio Aspetta 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 No Qua No No niente Non so cosa sto facendo Allora questo qua Quello lì Quello devi colpire è questo E finì va bene Io voglio attivarlo Giusto per vedere che cazzo fa Allora ma adesso che l'abbiamo attivati tutti Non è più facile attivare quello di prima E poi Non sbagliare Come le devi dire No perché non ce la fa in tempo Se riuscissi a prendere quel cazzo di coso Ci si arriva E' solo che non riesco a Eccolo Che non si attiva Quella era la mira giusta Non so cosa faccia E' perché ci serve un po' più di tempo Ah Secondo me gli serve un po' più di tempo Aspetta Fammi stare Provo a stare io qua al centro Magari devi stare qua al centro Ecco Ok Questo va girato Ora dobbiamo Dobbiamo disattivare Quell'altra Non è necessario Perché è magica Guarda il punto è Che non ci arriva quello No 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 Perché stai andando di lì Torna indietro Riesci a fare tutto da qua penso Dici? Da questo punto ti amplia la visuale Vedi? Sì Tipo Adesso non lo sta facendo Non so perché Quindi bisogna centrare quello specchio lì Oh ecco Allora secondo me Merda Vieni verso di me Che sennò si confonde Ok Allora Dobbiamo indubbiamente prendere quello specchio Ma non so come L'angolo maggiore mi sa che ce l'hai facendo da qua Faccio No secondo me Secondo me riesco a prenderlo lì da qua al centro No vedi guarda 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 Sì anche da lì Devi prendere quello specchio Non quello Ok Ok ce l'ho Mantieni Devi mantenere la mira dello specchio Ok trovato Aspetta Guarda che ho fermato questo così Ok Ora lo devi fare solo il tempismo giusto per accendere quella cosa Ok No è diverso l'angolo Perché quando sapete Voila Ce l'hai fatta? No L'ho fermato però Ora se ci arriva Olè Oh Fuck Arriviamo Ovvio Attivalo Tu attivalo No non ci arrivo Sì Oh fuck acqua Morite stupide rane Non si provate neanche Lontani Vì lì Via Ah ok Bene Ora Ora? Non so vai tu per primo Grazie Molto gentile Ok Sembra sicuro Beh adesso penso che dovremmo riattivare sta roba Cioè non so che cosa abbia fatto in realtà Penso abbia fatto qualcosa più indietro Ok No Sì 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 Spaccato che se non riesco a raggiungere Ok Ok No c'è la roccia in me Seriamente E devi tornare Vado di qua Sì vai via Forse no Yup Oddio Ti vedo spazare di cattività Ok Non so dove riprendiamo però Spero dopo il Soprattutto se riprendiamo Dopo tutto il casino Come on Non farci rifare sta cosa Ma secondo me Mmm Se c'è la roccia in me Se c'è la roccia in me Se c'è la roccia in me Sì Sì Decisione Ah Vabbè adesso abbiamo Non dovremmo metterci troppo Forse Allora Eh Attivare Attiva questo Ok Ok Poi su qua Ok Bene Ora Quello torna in là Oh oh Sono andato indietro Spostati Ok Ok Ora Dovremmo Allora quando lo fermiamo da là No fermo Attiva No Aspetta Remango qua un attimo Che lo attivo Eh no Non riesco a vederlo Niente Ah questi li lasciavano Tieni dopo Quelli li lascio attivi E ho figli ok No Vi Vi Oddio C'ho tipo Un angolino di Gnie 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 Oh Io vado a fermare l'altro E via brutta cosa No no va bene quelli Lasciali in movimento No devo Ah quello si Dove fermare quell'altro Eh si Ah Non so The fuck Allora 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 Eh La prima cosa Ti risuscito Seconda cosa Mi curo Andare a prendere Ok Sto Andare a sbloccare quell'altro cosa No Sono suicidato Bene Adesso puoi vedere meglio Da Non so se da lì ci arrivi E tu da dove ci sei arrivato Io sono arrivato da lì Se arrivi Sti Ehm Te la mica lo come Tipo facendo una roba del genere Sì da qua Da qua Da qua Da qua Da qua Ok va bene So appena tornato Lo fermo Intanto tu devi Attiva con l'altro tu Lo specchio va girato Yes Ovviamente ho beccato tutto Tranne quello che serviva Aia Come Stai facendo Mi sto mettendo in posizione Fatto Vedi ce l'avevo fatto anch'io Potevi farlo da qui Allora devo prendere quella Questa qui è la finestra Da qui posso passare Ok Che possiamo fare Sì ce l'ho fatta La faccia zola Oddio aspetta Andiamo a attivare quella roba Ah io vado Aia Non fai niente Aia Ok No Giù Giù cattivi Giù cattivi Ah Mi hai ucciso Il problema è stato risolto Ero io il problema Allora Perché secondo me possiamo passare per la porta No No vieni qua Ok Fail Allora non riesco Vieni verso di me che non riesco a avere la visuale piena Non so perché Ok Perché non deve stare vicino al centro Sono tutti assesi Guarda dobbiamo riuscire a passare su quello Non so come In che senso quale? Su questo qua che si sta muovendo Quello al centro? Si stanno tutti muovendo Quello Quello Deve fare il per Ah no ma vabbè Si sta muovendo l'altro Non è un problema Ehi Aia Non morire Ok Risuscitami Magari non in movimento Aspetta che mi fermo Vai Ok Ok Vedi Cosa succede? Passa You're gonna die so horribly No Ok Portatamente no Per ora Fuck Good job Non resuscitarmi lì perché muoio e basta Il movimento si muore e va Perché? Perché siamo lì? Cosa? Tu stai proprio tornando indietro? Si in teoria si Però in pratica no Stai proprio tornando indietro? Va qua o no? Ah ma devo fermarlo Secondo me dobbiamo passare sull'altro No basta fermare questo quando torno indietro Vero? Non quello Questo Ecco Ora mi è stato risolto Yes Problem solved Ok Tac Occhio Snecchio Piano Ecco Pac Ah sono salvo Ragazzi Pac Aia Bene Ce l'abbiamo finalmente fatto Yeah Ok Ah Questo è il naso di Cthulhu Esattamente Allora siamo andati qui Ergo Presumo che dobbiamo andare tutte le altre vie E fare una roba simile Dici? Mm 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 Andiamo di qua prima Sì Sai che voglio morire in questo momento? C'è una magia là Per farvi vedere il mio disappunto Ci spingerò via A meno che Aspetta vieni qua Aspetta C'è un libro Stami lontano Stami lontano Vuoi te trasportarti No Stami lontano Non lì lontano Giù lontano Ok No Sbagliato Sì? È un bellissimo spettacolo di luci Volevo fare delle mine Ma non me le fa fare Perché volevi fare delle mine? Ops God why? Più o meno Più o meno l'idea era quella Ok? Solo che volevo Catapultarmi di là Ma teletrasportarsi no? Non c'è Ah non c'è il teleport No è ASA Va bene Allora andiamo in un'altra via Sì Non c'è il teleport Cosa è una porta che è sul mio Ok Speriamo di non farlo Oh 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 fuck Non ti ero suscitato? Ah non sei morto O cosa? Ah non ti vedo È invisibile per me Fantastico Suicidati che ti ero suscito Beh io conosco un modo per suicidarmi Tipo tirarti una roccia in testa E di Aia Ti hai suicidato? Sì Ok adesso ti vedo Penso che dobbiamo congelare sta acqua Fuck No 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 Allora aspetta Da dove cazzo salgo? Da lì Ok Ok qua No Quello Non so se l'ho acceso Non lo vedo No non credo Marche mi sa che dovrebbe aprire almeno sta porta Tipo Non è che devi spararlo al demonone che c'è lì No C'è il coso là C'è il pulsante rosso Adesso lo vedo No non c'è E' tipo più in su Ops E se io facessi No Aspetta Non vorrei che ci fosse qualcos'altro da questa parte Può essere No c'è nulla E se io usassi tipo La mia lente di ingrandimento enorme per Non so cosa servo Prova a sparare da lì No c'è la roccia di mezzo Prova a sparare tipo da Stavo giocando di pingare come il lol Sì Bravo qui No fail Da qua non ci arriverà No è troppo basso Magica sei rotto Io devo colpire il bulbo precisamente Forse è da sparare da un altro punto What? L'hai preso tu in realtà Come? Non lo so A me sembrava spento Lì c'è una spalla Io voglio quella spada Prendila Non posso Svegliati tentacolo ti curo io Dici che è una brutta idea? Dai su vieni Ora ragazzi guardate qui Che tristezza Dovevi farti lo scudo di roccia Grazie Molto utile saperlo adesso Oh fuck Cosa hai fatto? Perché hai fatto incazzare sto coso? QF? No Sono morto Oh merde QF a S Muori Forse non mi faccio niente QF a S Muori Si prende danni So che ci metto Oh Via Ah si è così che l'abbiamo battuto l'ultima volta Si Le nocce lo curano ancora Sembra la stessa cosa Corri Corri Me lo sto tankando io Cioè era tanto tankando Basta scappare Io mi sono messo lo scudo Prima di curarmi Guarda la mia vita Si è incastrato Si What the fuck Bene Cos'è questo? Oh si brass knuckles Bene Ho fatto un successo incredibile Questo tentacolo è ancora qua Io voglio quella spada Sembra figa Pensate che ci si arriva dall'altra parte In qualche modo Non so come però Come mi levo l'armatura? Oh oh Te la tiri Non è il momento per chiedermelo Te la tiri due volte Cioè due volte faccio Fai E Tasto centrale E tasto centrale No Ok fantastico La 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 Stai facendo? Stavo giocando Ok Allora Adesso in teoria Dovevi andare dall'alto Oh oh Allora Si è aperta la porta Ma c'è un tentacolo davanti Quindi Dovevi ancora andare dall'altra parte Di questo lato Oh oh F*** you Vuoi le rocce? Ha Esattamente quello che ho fatto L'ultima volta Oh oh Io ho una roccia carica Appena si cava dalle Ma vieni qua That hurt Vai spaccato Se la sta fredendo con le mie rocce Aia Abbiamo shottato Oh f*** Suscita Vai Ok Non so dove sto andando Ah ero Forse avevo paura È morto Ha L'ho fatto esplodere Per raggio curativo Forse Quinto l'ho croce rossa Ok Di qua Aspetta che No c'è un po' di schifo qua Fammi pulire Dai Tanto si infila nel terreno O scompare magicamente Sì ma io sono una persona pulita La Gaia direbbe di no Però è vero Scudo d'acqua Presumo che Non si vada di qua Ci trasformiamo In una bellissima farfalla E voliamo via Allora Potremmo Provare a vedere Su se si è aperto Dovremmo andati Prima di qua Vero Di qua non c'eravano andati Perché era chiuso Di adesso è ancora chiuso Direi proprio di Sì Sì Che cazzo Fa qualcosa No No Qui c'è dell'acqua Qui dietro Mi sa che si torna indietro Ah no c'è un side ponte The fuck Yeah Visto Sono utile Ok corriamo C'è un ponte Che da sul vuoto Ah no aspetta 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 Mi sa che sia invisibile Oh Fuck Oh mio dio Come fai a vederlo Eh vedi che ti posso Vedere Ok lo vedo Lo vedo Lo vedo Oh merda Oh Vedetela tu con lui Non ti preoccupare Per me Ho le rocce Aia No sono in fiamme Aia Riuscitami No attento sei confuso Ok Non mi fa Mi sa che Sono tipo cambiati i tasti Ecco adesso Ok Tira un sasso con la merda Non ci arriva il sasso Ah oh Occhio Questo è uscito Aspetta Ce la farò Non ci arriva Allora Non so che strada prendere Fermo Uno di noi prende una strada Allora in giù Non si va Perché sono morto prima E non si va neanche in su Sicuramente Non mi sembra What Ok Aspetta Stai lì Sì Lì Sì Vai Ok Bene Guarda Di qua dovrebbe essere Relativamente sicuro Eccolo Perché dici cose No ma confuso Sono morto Ressami Ressami Prima che ti confonda Ok Non sono del tutto inutile Io non correrei In questa situazione Piano 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 Oh 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 fuck Muori brutta merda Oh oh Come cavolo fa A confonderci Tutti e due Non lo so Però gli sto per tirare Un sasso O forse no Sono morto E restami Oddio Non so come lo fa Perché mi aveva cambiato I tasti anche Wow Ok ti ho restato No 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 Tu ne che resta armi Restami Ressa Ressa Non riesco Non sono riuscito Non riuscivo a far spazio Non so perché No Defeated Ero così confuso Da colpirmi da solo Spara fuoco Qualcosa Allora Ripartire da qua Ok Allora Dicevamo Questa è la prima strada Sì Ora Qui c'è E Cosa di merda Ops Ressami Ressami Prima che ti dia fuoco No è morto Adesso mi è lo stesso Perché ti riconfondo Aia Che ti dia un sasso Io non ho tirato nulla Chi è che ti dia un sasso Non lo so Chi è che ti dia un sasso anche a me Ressami Ressa Occhio che sei Datti fuoco Datti fuoco Non sei confuso Se sono bagnato Ok Allora Calma Ce la possiamo fare Qui la strada Ah è così Che va sul lato Ah Allora Lo sapevo Oh la farfalla di merda Alleluia Finalmente Vai avanti Io piglio quello dietro di te Preso Preso di nuovo Ok Ok Nice Teamwork Adesso Secondo me non è di là Piano Piano Fermo 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 Io non capisco No qua non c'è Non c'è ponte Ah vado io Non c'è ponte lì Non c'è ponte No non c'è Intorno qua Ok The fuck Aspetta Com'è che hai fatto Cioè vedi che hai un'aura Hai tipo un'aura intorno Sì Dove c'è la cosa Tipo un glitch grafico Allora Dovete che dobbiamo andare giù su questa Sì E andare di qua Sì Probabile E poi andare di qua Fuck Oh È morto sì Nice Aia Ups Non l'ho fatta apposta All Ok Fermo Bene Guardi qua Sì Fuck Io quello dietro Allora vediamo Ok Ci diamo la far fare Ero che saranno la vostra rovina Fail Ho un tiro moscio va bene Sole lunedì E oggi venerdì Ah ma confuso Ok non so cosa cosa si Io sono confuso da solo Non c'è bisogno che mi chiedi Io non la prendo Io non la prendo Oh ok E muori brutta merda Ok Sono confuso Prepara dei sassi Sono confuso Sto preparando dell'arcano Va bene Sì va bene No gli ho tirato una roccia E non ho colpito i due Non gli ho dato niente In realtà No Che culo Ressuscitami prima Che sia troppo tardi Ok Non so perché Io ti ho resuscitato Ma è morto il coso E non sei rinato tu Non so come ho fatto A resuscitarti io Più che altro Questa è la vera domanda No dobbiamo tornare indietro No dobbiamo tornare indietro La potenza del lag No Piano Piano Aspettami Careful Ok Via dalle palle Quanto adoro questo gioco Allora Di qua Poi torno in su E poi questa è quella Che sai fare tu E basta Ah Stai indietro Beh infatti Fai Ressa Si vede ma è difficilissimo Vado io Vado io Vado io Vai vai Ok Si vede praticamente Se tu guardi Quelle undicelle Che ti crea sotto i piedi Si Vedi dove Esatto Se puoi andare Ok Fa un culo Era diretto Vado io Aspetta Stai fermo Si era diretto Di qua Ok Di qua Magica è un po' Sto orribile Ok 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 Bene Nice Ci abbiamo fatto Sempre più forti ragazzi Non c'è speranza per Cthulhu Devasterino Forse Si è aperto il ponte Sono ritraggono anche i tentacoli Per caso Andiamo a vedere Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Potrei cercare di lanciare Ace E poi non lancio Ace Ma lancio Qualcos'altro Allora A cui presumo Che c'è ancora qualcosa Da fare Adesso direi che Vediamo le altre strade Dove eravamo andate prima Si era aperta questa? No Quella con l'acqua Mi sembrava fosse ancora Innaffiata Good job Sono venuto a cadere Nella stanza Dove si scelgono i livelli Praticamente Ah no ecco Questo è Ah no Non è vero No Forse con lo scudo di roccia Posso passare Cioè Posso passare Però non posso andare a nessuna parte O forse no Oh my god Dentro nell'acqua What? Oh my Blood Ok Bene Non so bene Se fosse previsto Che passassimo così Però fa lo stesso Oh cazzo Oh 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 Aia No sono bagnato Mori stupida rana Ok Bene ora E poi No le rocce lo curano QFASA Io vorrei farlo così Attraverso di te No perché Si è trovato indietro Fuck No adesso moriamo Ah no Allora Vai entra Cose random Oh fuck Ancora qua Ok No No Va bene No Brake free Brake free Io se scappo in giro Come una donna C'è la vado in lo stesso Funziona come è Realmente prima o poi Prima di prima o poi L'ho messo No Wrong way Wrong fucking way Oh oh Vabbaculo Ok Ho spaccato la cosa Fulmina sti cosi Oh mi sembra mi dovrei essere Forse no Forse no Oh oh Allora Io non so cosa sto facendo Ma qualcosa faccio Ok uno è morto Ma ti cazzo ne stanno arrivando Andate via Oh fuck Ah 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 Ok Sono morto Press Press please Ci sono Ci sono Non avrai la mia Ok forse avrai la mia carne Ma non adesso Eh Siamo sti cazzo di rane Oh sono morti Bene Questo lo cura Quindi niente Questo anche quindi niente Moriii Cazzo Aiuto E ci provo Ok Ok No niente sto sparando E' morto Oh si Restami Fuck Sai che continuano spawnarvi Che non uccidiamo Ah scusa un attimo Ahia Fuck Dai stessa Arrivo Ok lui è morto Tessa Arriva Ho già acceso sto cosa Comunque Pacevo anche Darci la gambe Anzi propongo Di darci la gambe Migliore Io combatterò Non è morto Sto No si che è morto E che c'era un altro Allora corri No Restami Revive Aia Revive di nuovo Sei bagnato Non so che lo sto facendo E quello è anche lo zoom in Sulla mia Sulla tua morte E il mio paralisi Il mio paralisi È italiano? Good job Da oggi è italiano Allora una strategia migliore Aspetta No Che tristezza Corri 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 Quasi fatta Per una buona strategia Magari in due Ce la facciamo Se non mi uccidi Se non ti liberi Del peso Dovevamo correre Però Non lo stesso Che stiamo Che continuano a spawnare Sì Go Ammaffa la farfalla Ammaffa la farfalla Ok Accende questo A.S.D.F. A.S.T. Schiva Si porta A largo Attorno La farfalla E' perché prima Mi ha confuso la farfalla Quindi sono tornato indietro E poi mi ha massacrato Gli Crack Adesso moriamo Contra la fontana Sto attento Non sono più i tentacoli Sono levati i tentacoli Go Ce la possiamo fare Sarà l'episodio più lungo Cioè questo va diviso In due parti per forza Sì 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 Questo lo divide Ma anche in tre Perché forse L'ultimo livello Tipo non lo so Ah sì aspetta Cioè è tipo un livello unico Non lo so E lo supera Muaou 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 Grazie a tutti